Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica. Solo il centrodestra unito con l'apporto delle civiche può contendere la vittoria al Movimento 5 Stelle nelle prossime regionali. E questa l'indicazione che emerge dal sondaggio diffuso da Civiche per l'Abruzzo. In crisi il gradimento della giunta regionale del presidente Luciano D'Alfonso, giudizio negativo per l'80% del campione. Il servizio di Alfredo Primante. Una presenza tra virgolette civica rappresenta una massa critica di cui la coalizione di centrodestra o la coalizione antagonista al PD non può fare a meno. Il 7,3% che il sondaggio della CRM di Roma commissionato da Cairos SRL assegna alle civiche per l'Abruzzo, raggruppamento formato da azione politica Abruzzo Liberal e Avanguardia Civica Abruzzo, fa avvicinare in maniera consistente il centrodestra unito al Movimento 5 Stelle. Secondo il campione di abruzzesi interpellati telefonicamente mille persone, c'è solo un punto percentuale di differenza tra i due blocchi, quello azzurro composto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Udc e Civiche per l'Abruzzo, e quello giallo con il Movimento 5 Stelle. Una partita aperta dunque a patto che si ritrovi l'unità del centrodestra, messa in crisi dalle velleità della Lega che reclama per sé il candidato presidente, brandendo l'ipotesi di un accordo con il Movimento 5 Stelle. Nel sondaggio diffuso proprio da Civiche per l'Abruzzo si analizza anche il gradimento sui nomi di possibili candidati presidente. Forte quello per Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, mentre nel centrodestra tra Febbo, Martino, Bagnai, Di Primio e Di Stefano, solo con quest'ultimo presidente il successo pentastellato sarebbe incerto. Il centrodestra che in questo momento è ancora un po' liquido perché non si capisce bene chi si allera con chi. Voi che prospettiva immaginate per le prossime elezioni regionali? Noi speriamo che sia il centrodestra tradizionale, stiamo lavorando per quello, stiamo cercando di ragionare con partiti all'interno di questa coalizione per cercare di farla rimanere unita. Non è facile, è vero, la domanda è giusta, non è facile perché purtroppo siamo in una situazione ambigua in questo momento. Chi era grande fa fatica a prendere coscienza che forse oggi è un po' più piccolo, chi era piccolo fa la voce grossa perché oggi effettivamente è un po' più grande. Ci vorrebbe un po' di umiltà da parte di tutti, risederci sempre a quel famoso tavolo dell'ultima conferenza che abbiamo fatto in questa sede e cominciare a ragionare di programmi più che di candidati presidenti. Altro dato eclatante che emerge dal sondaggio è il gradimento del presidente della regione e dell'operato della sua giunta. Per l'80% del campione il giudizio è negativo. Il sondaggio analizza anche i temi sui quali i cittadini sono più sensibili. 8 cittadini su 10 nella regione d'Abruzzo si dichiarano insoddisfatti della giunta regionale. Credo che da questo punto di partenza si possa ripartire. con l'intervento, come chiedono i cittadini, soprattutto sul lavoro, è la manutenzione, cioè la possibilità che le cose, le strade e la viabilità siano manutenute a regola d'arte. E' un copia e incolla del lavoro del governo Gentiloni, così il Partito Democratico, e dunque, rimaniamo in tema di politica, definisce il decreto terremoto licenziato dal Parlamento, parlando di un tradimento delle promesse elettorali di Movimento 5 Stelle e Lega. Bugie vengono bollate così dal Partito Democratico, le promesse fatte ai terremotati del Centro Italia, da Lega e Movimento 5 Stelle, ora al governo. Nel decreto terremoto appena approvato in seconda lettura alla Camera, non c'è traccia del cambiamento promesso in campagna elettorale, dicono, e non c'è traccia del decreto terremoto che, alla vigilia della formazione del governo Conte, i grillini avevano annunciato di avere pronto. Il PD che ha votato questo decreto parla di un copia e incolla del lavoro fatto dal governo Gentiloni, che però era in uscita e aveva demandato al nuovo governo molte scelte strategiche su semplificazione della ricostruzione, stanziamento delle risorse e restituzione delle tasse. Bocciati tutti i 200 emendamenti delle opposizioni, dicono Camillo Adalessandro, Stefania Pezzopane e il segretario regionale del PD, Marco Rapino, Anche quelli a costo zero si sono fatte proroghe su proroghe, continua Adalessandro. Per gli abruzzesi in nome esatto è il governo del tradimento e coloro i quali hanno tradito, prima di tutti, sono i parlamentari abruzzesi di 5 Stelle e Lega che dopo aver promesso di tutto in quei territori, con quelle popolazioni già provate in difficoltà, con le imprese già provate in difficoltà, non hanno fatto nulla di quello che avevano detto solo fino a qualche giorno fa. ed è un fatto gravissimo perché noi abbiamo presentato circa 200 proposte migliorative per l'Abruzzo insieme alle altre opposizioni, non solo come PD, hanno detto di no a tutto, neanche uno, quindi non sono entrati nel merito su nulla, per rinviare al futuro. Quello che abbiamo riportato a casa è quello che Gentiloni aveva previsto e le leggi precedenti che sono state prorogate, cioè sono state proroghe delle proroghe, ma il governo del cambiamento doveva appunto cambiare, aggiungere. Purtroppo non c'è stato nulla di farina nel loro sacco se non sottrazione più che aggiunta. Ora si rinvia a un decreto delle mille proroghe, per esempio per quanto riguarda la struttura commissariale, si rinvia alla legge di bilancio, alla legge finanziaria per altri interventi di natura finanziaria. Però nel frattempo sono a rischio di diverse costi. Per esempio le scuole non sono riuscite a recepire neanche un emendamento che derogava ai comuni ad avere un numero in deroga minimo per la formazione delle classi. Siamo vicino al nuovo anno scolastico, insomma le cose sono molto molto problematiche. E sulla questione restituzione delle tasse abbiamo ascoltato il deputato del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, che lamenta la bocciatura delle sue proposte per risolvere il problema che affligge tantissime aziende colpite dal sisma del 2009. Per la Pezzopane il governo dei sovranisti ha avuto paura dell'Europa, la ascoltiamo. Una proroga di una proroga, già il governo Gentiloni aveva prorogato, dicono di fare cose innovative ma stanno sempre a fare le stesse cose. Io avevo proposto un emendamento che risolveva il problema e non ero sola, l'aveva proposto anche Forza Italia, anche altre forze politiche e anche chi poi me lo ha bocciato al tavolo di lavoro della Regione aveva convenuto che era la soluzione. Cosa proponeva questo emendamento? Di applicare la legge italiana sul de minimis e quindi di far valere il de minimis del 2011 quando la legge fu approvata, quella che riduceva al 40%, e non la legge del 2012 che stabilisce invece un diverso de minimis. Allora approvando l'emendamento si svincolavano tutte le aziende fino a 500.000 euro e invece i sovranisti, quelli che dicono che con l'Europa vogliono fare la guerra, che avrebbero sfasciato tutto, che fanno? Si impauriscono anche ad approvare un emendamento che diceva interpretiamo la norma italiana, l'interpretazione autentica di una norma italiana e dicono invece che devono dialogare con l'Europa. Ma non vi sembra che c'è una schizofrenia evidente tra quello che dicevano pochi giorni prima di costituire il governo del cambiamento che su questa partita delle tasse avrebbero sfasciato l'Europa, Salvini voleva andare? E adesso un emendamento modestissimo condiviso da tutti, bocciato, proroga. Non basta questa proroga, ho già detto che nel mille proroghe devono fare un'altra proroga perché in pochi giorni, 60, con in mezzo agosto, ma se sono così succubi appunto dell'Europa e vogliono andare a trattare, che pensano che una vicenda così si tratta con l'Europa in poche settimane non sarà così, ci batteremo ancora. Cronaca adesso, momenti di tensione questa mattina davanti al Tribunale di Teramo vedete le immagini gentilmente concesse dal quotidiano, la città quotidiana della provincia di Teramo dove era in corso il processo a due anarchici accusati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in relazione alla vicenda dell'esposizione nel 2016 di uno striscione con la scritta assassini durante il concerto della banda della Polizia di Stato in piazza Buozzi a Giulianova nel giugno del 2016. Fuori al Tribunale si era infatti radunato un gruppetto di circa una ventina di anarchici e si sono registrati degli scontri con gli agenti che hanno caricato i presenti. Il bilancio è di tre agenti lievemente contusi, uno dei manifestanti è stato fermato e portato in questura mentre il resto del gruppo dove, lo avete visto, erano presenti diverse ragazze si è successivamente disperso. Cambiamo argomento adesso, la tragica vicenda del giovane padre di famiglia di Larino deceduto per malasanità ha stimolato la reazione del mondo politico e di diverse associazioni. In particolare l'ex governatore del Molise Frattura ha dichiarato di non essere più il commissario ad acta della sanità mentre l'attuale presidente della regione Molise Toma chiede di essere nominato per l'incarico. Intanto la procura di Larino ha aperto un'inchiesta contro i gnoti per le ipotesi di reato di omicidio, interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d'ufficio. Il servizio di Giovanni Minicozzi. L'ennesimo tragico caso di malasanità molisana ha stimolato politici, movimenti e associazioni che hanno rotto il silenzio per denunciare l'inefficienza del sistema. L'ex governatore Michele Iorio ha chiesto al ministro Giulia Grillo di cercare i responsabili all'interno del suo ministero e del tavolo tecnico nazionale perché, ha detto Iorio, sono loro che hanno imposto un piano sanitario avvallato da Paolo Frattura, non idoneo per le patologie tempo dipendenti a causa della chiusura di neurochirurgia all'ospedale Cardarelli di Campobasso, imbarazzante la dichiarazione di Paolo Frattura. Non sono più il commissario ad acta del Molise, il mio incarico è scaduto con la nomina del nuovo governatore della regione, ha detto Frattura. Voglio però ricordare, ha aggiunto, che il piano sanitario è stato approvato con legge dello Stato e prevede chiaramente la riorganizzazione della rete di neurochirurgia e non mi sembra di aver letto in quella occasione considerazioni da parte del ministro Giulia Grillo, la quale sedeva in Parlamento. Immediata la replica del Movimento 5 Stelle è stato proprio Frattura con il Partito Democratico a far approvare con legge dello Stato il piano sanitario fallimentare che non garantisce i livelli essenziali di assistenza, ha denunciato Andrea Greco. Quanto alle accuse rivolte al ministro Grillo, ha concluso, vorrei ricordare a Frattura che lei votò contro quella legge. L'Unione sindacale di base, dal canto suo, ha inviato una nota durissima. Ancora una volta la politica molisana ha fatto flop e a pagare con la morte è stato un giovane padre di famiglia, ha dichiarato il segretario Sergio Calce. Il presidente della regione Donato Toma ha ricordato di non essere stato ancora nominato commissario ad Accheta ed ha chiesto la revisione necessaria del decreto Balduzzi. Sicuramente una modifica da realizzare con urgenza, aggiungiamo noi, ma Donato Toma da presidente ha i pieni poteri per realizzare con tempestività un servizio di eri soccorso e per potenziare la rete dell'emergenza urgenza. Intanto la procura di Larino ha aperto un fascicolo sulla morte del 47enne. Omicidio, interruzione di pubblico servizio e omissioni di atti di ufficio, i reati ipotizzati al momento contro i gnoti, dal PM Fabio Papa, titolare dell'inchiesta. C'è attesa, infine, anche per la decisione degli ispettori ministeriali. L'augurio è che non sia qualche malcapitato operatore a pagare per un sistema sanitario inefficiente e disorganizzato per volontà di chi lo ha programmato maldestramente con il solo obiettivo di ridurre i costi. Sei anni e dieci mesi di reclusione. La condanna è inflitta ieri pomeriggio all'ex assessore alla cultura della regione Abruzzo, Luigi De Fanis, dal Tribunale Collegiale di Pescara. A conclusione del processo su tangenti nella cultura, De Fanis è stato anche condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Il procuratore aggiunto, Anna Rita Mantini, aveva chiesto per l'ex assessore otto anni di reclusione. Assolti invece perché il fatto non sussiste da tutti i reati a loro contestati gli altri tre imputati. Ermanno Falone, rappresentante legale dell'Associazione Abruzzo Antico, Rosa Gianmarco, responsabile dell'Agenzia per la promozione culturale della regione Abruzzo, l'imprenditore Antonio Di Domenica. Nello specifico, il Tribunale Collegiale, presieduto da Maria Michela Di Fine, ha condannato l'ex assessore De Fanis per concussione, induzione, tentata induzione in debita a dare o promettere utilità, peculato, truffa e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'imputato è stato assolto invece perché il fatto non sussiste dai reati di corruzione e abuso d'ufficio. De Fanis è stato condannato al risarcimento del danno da liquidare in separata sede a favore delle due parti civili, cioè la regione Abruzzo e Andrea Mascitti, l'imprenditore dello spettacolo, che con la sua denuncia nel 2013 fece partire proprio l'inchiesta il VATE. Io, mazzette, non ne ho prese. Queste le dichiarazioni dell'ex assessore De Fanis. Ho sempre parlato, continua, di contributi elettorali che erano due e lo stesso hanno fatto i diretti interessati. Aspettiamo, a concluso, di vedere le motivazioni e poi decideremo insieme al mio avvocato per un eventuale appello. Ci spostiamo a Lanciano adesso. Gli agenti del commissariato hanno sorpreso tre studenti, tutti minorenni, sulle gradinate dell'ex ippodromo Villa delle Rose di Lanciano, con 30 grammi di hashish. Per loro è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. Vediamo. Arrivano anche da fuori città per comprarla. I posti dove acquistarla sono almeno due in pieno centro. La Villa Comunale è l'ex ippodromo. Ed è proprio sugli spalti nuovi del futuro Central Park di Lanciano che gli agenti del commissariato locale hanno sorpreso tre minori del posto, con 30 grammi di hashish, circa 10 a testa e in cubetti da taglio. I tre studenti avevano con sé anche un bilancino di precisione. Per un quindicenne e due diciassettenni è scattata quindi la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente, con segnalazione alla procura presso il Tribunale dei minori dell'Aquila. Un'operazione scaturita dai servizi di controllo del territorio e intensificati su richiesta della questura di Chieti. Con l'estate soprattutto, spiega il capo di gabinetto, Katia Basilico, la Polizia di Stato è più attenta ai luoghi di ritrovo in cui si registra un maggiore afflusso di giovani. Il 30 giugno scorso, infatti, nella villa comunale di Lanciano, gli agenti del commissariato arrestarono due minorenni sorpresi con 120 grammi di hashish e due bilancini di precisione, da cui il sospetto che due ragazzi provenienti da Fossacesia fossero arrivati in città con l'intento di spacciare l'hashish. Entrambi furono arrestati e condotti a Roma a Casal del Marmo. A Poggio Fiorito adesso, ieri mattina incendio del mezzo Tua, oltre ai necessari accertamenti su quanto accaduto, la Società di Trasporto Pubblico ha disposto in via preventiva un controllo straordinario sullo stato dei veicoli. Vediamo. Tua corre ai ripari. A seguito dell'incendio che ha distrutto un autobus sulla strada provinciale per Orsogna, un chilometro dopo la rotatoria di Poggio Fiorito, l'azienda unica di trasporto regionale annuncia che saranno eseguiti dei controlli straordinari sui mezzi della flotta. L'autobus, uno scagna immatricolato nel 2002, sottoposto a revisione periodica nel febbraio scorso, precisa l'azienda, alle 11.45 circa ha preso fuoco dal vano motore. Il bus viaggiava sul tratto della strada statale 538 Ex Marucina, che collega Rielli a Orsogna. Il mezzo della flotta regionale stava svolgendo il servizio delle 10.55 da Ortonamare a Orsogna, quando è andato completamente distrutto. Sul bus erano presenti quattro clienti, precisa la nota aziendale, immediatamente messi in sicurezza da parte dell'autista di Tua SPA, che ha correttamente gestito la fase d'emergenza, anche prima dell'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, provando a domare le fiamme con l'estintore a bordo del bus. Tua SPA, conclude la nota, oltre ai necessari accertamenti su quanto accaduto, ha disposto in via preventiva un controllo straordinario sullo stato dei veicoli. Siamo all'Aquila, adesso finalmente sono partiti i lavori del Palazzetto dello Sport, annesso allo Stadio Fattori. La città le attendeva da tempo e si era gridato allo scandalo per i ritardi e lo stato di abbandono in cui versava. Soddisfatto per la partenza, il Vice Sindaco Liris. Al via i lavori del primo lotto del Palazzetto dello Sport dell'Aquila, per un valore di circa 640 mila euro, un intervento strategico e fondamentale che la città aspettava da anni, importantissimo in un'ottica di ricostruzione sociale, soprattutto per i giovani. Così ha parlato il Vice Sindaco del Capoluogo di Regione, Guido Liris, che è alla delega alle opere pubbliche, annunciando l'avvio dei lavori. Per i lavori la struttura che si trova su Viale Ovidi è stata suddivisa in tre lotti. Il primo, quello iniziato, prevede un'imponente copertura in legno, che la ditta conta di finire entro la fine di agosto, anche se ufficialmente avrebbero 60 giorni. Il secondo lotto riguarda invece l'installazione degli infissi. Il terzo, un adeguamento sismico e tutti gli impianti, per un costo totale di circa 1 milione e 400 mila euro, ha detto Liris. Stiamo lavorando molto, i risultati sono frutto di una sinergia con tutti gli attori principali della ricostruzione. Il vice sindaco ha voluto anche sottolineare il valore dello sport per i giovani che vivono in una città terremotata. L'Aquila sta rinascendo, ma i ragazzi hanno aspettato abbastanza. Ci vuole tempo, ci vorrà ancora tempo, ma dobbiamo restituire agli aquilani luoghi chiave. Sono veramente orgoglioso e voglio ringraziare tutta la macchina che ha portato a questo nuovo inizio, dall'assessore allo sport Piccinini a dirigenti e dipendenti del settore, ha detto Liris. Tutti stanno facendo la loro parte. Apriamo adesso la pagina dello sport. Ovviamente partiamo dalla serie B, perché mentre il mercato del Pescara vive una fase interlocutoria, la squadra continua a lavorare nel ritiro di Palena. Si avvicinano le amichevoli. La prima domenica pomeriggio contro la Delfino Flacco Porto. Sul fronte abbonamenti sempre domenica scadrà il periodo di prelazione. Da lunedì scatterà la vendita libera delle tessere. Andrea Costantini. Fase di calcio-mercato interlocutoria per il Pescara, che ora si sta concentrando su operazioni minori in collaborazione con il Fano. Ai marchigiani, allenati da Massimo Epifani e con Antonio Bocchetti, direttore sportivo, come detto ieri, sono approdati il difensore Alessandro Celli, l'esterno d'attacco Fabio Morselli. E' stato poi aggiunto il centrocampista Luca Daniele Scimia. Tutti in prestito. Saranno seguiti da Simone Tascone, altro centrocampista che sarà acquistato dal Genoa e dato in prestito al Fano. Ufficiale la cessione a titolo definitivo del portiere Luca Savelloni, al Rende in Serie C, per lui contratto biennale. D'altro canto, il Delfino ha messo le mani sul centravanti seregalese classe 2000, Papa Sambussar, che firmerà un triennale. La squadra invece lavora quasi al gran completo. Dopo l'Under-19 si attendono gli arrivi di Melegoni e Capone. Quest'ultimo ieri in gol contro il Portogallo. Pillon ad oggi si è dichiarato soddisfatto della rosa a disposizione, ma il mercato chiuderà tra un mese e le dinamiche sono imprevedibili. Un'offerta importante può comportare una cessione. Oltre alla situazione Canutè, che comunque non si è mai visto in ritiro, Zampano, Brugman, Macin, Cocco potrebbero uscire da un momento all'altro. E in quel caso il luoto della rosa dovrebbe essere colmato. Ma potrebbe accadere anche il contrario. Una improvvisa opportunità di mercato, come poteva essere lo svincolato d'ufficio galano, può portare ad un'entrata a cui corrisponderà una uscita quasi forzata per evitare esuberi. E anche su questo pillone è stato chiaro. Voglio una rosa da 24-25 giocatori. Così ha dichiarato lunedì scorso. È evidente che rispetto a 12 mesi fa sarà più semplice raggiungere questo obiettivo, cosa che non accadde con Zeman per via dei tanti contratti e di una rosa extra-large. Intanto c'è attesa per le prime uscite stagionali del Delfino che caratterizzeranno la prossima settimana. Si parte da domenica 22 luglio, ore 17, a Palena contro la Delfino Flacco Porto, neopromossa in eccellenza. Poi giovedì 26, sempre a Palena, ore 17, la classica amichevole estiva contro il teramo del patron Luciano Campitelli. Sabato 28 il Pescara salutera a Palena e farà ritorno sulla costa, disputando un triangolare al Mariani Pavone di Pineto, ore 20 e 30, contro la locale formazione del patron Silvio Brocco e di Ilfano. Sul fronte campagna abbonamenti, domenica alle ore 20, si chiuderà la fase dedicata all'esercizio del diritto di prelazione per gli abbonati dello scorso anno. Da lunedì alle ore 10, il via alla vendita libera delle tessere. E intanto, sempre in casa Pescara, è ufficiale l'arrivo di Mirko Antonucci. Ecco il comunicato, Mirko Antonucci, attaccante classe 99, che arriva in prestito dalla Roma. Antonucci è entrato a far parte della Roma all'età di 13 anni. Come vedete, anche la sua carriera per il momento breve, ma speriamo sia la strigata di successi, soprattutto con la maglia biancazzurra, e che ha già avuto modo di disputare gare di campionato, una gara di campionato con la Roma lo scorso 24 gennaio, e anche il 2 maggio ha esordito in Europa, in Champions League, addirittura, seppure in una semifinale sfortunata della Roma, contro il Liverpool nella massima competizione europea. Dunque, ufficiale Mirko Antonucci. Andiamo adesso in Serie C, perché il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, fa il punto della situazione in casa bianco-rossa, sia per quanto riguarda le trattative in entrata che in uscita. Inoltre, il dirigente vuole cancellare i risultati non eccelsi delle ultime annate. Lo ascoltiamo. Sandro Federico, si riparte con una nuova stagione. Federico che era arrivato a metà della scorsa, ora ha la possibilità di costruire una squadra da capo. Ecco, come è andata finora? Bene, abbiamo condiviso un po' tutte le scelte con la società e con l'allenatore, perché bisogna riprendere e ragionare in maniera un po' più seria, perché non si possono più fare follie, lo ripeto, perché troppe società sono saltate e quindi dobbiamo essere più bravi degli altri, soffrire molto meno rispetto agli ultimi due anni e dare un occhio al bilancio, ma anche riuscire a mettere su una buona squadra. A che punto è l'allestimento dell'organico? Ci sono dei reparti da infoltire? Non so, il centrocampo ad esempio? Sì, dobbiamo fare ancora qualcosa in mezzo al campo e dietro. Nei giorni scorsi si era parlato anche di una possibile firma nuova da parte di giocatori che erano presenti come Sales e Graziano. Su loro cosa possiamo dire? Allora, sono due ragazzi in gamba, due ottimi calciatori, avevamo addirittura già programmato un rinnovo, poi le grandi difficoltà del finale di stagione e la difficoltà anche a dar via qualche calciatore ci ha un po' frenato e bloccato. Quindi faremo delle valutazioni man mano e se dovesse uscire qualcuno riprenderemo in considerazione una loro riconferma. Sandro, a livello di obiettivi il Terramo vuole una semplice salvezza, semplice tra virgolette, perché mantenere la categoria è fondamentale oppure si può guardare un pochino più in alto? Ma ormai la differenza tra una salvezza e il decimo posto ogni anno è di qualche punto. Quindi se parliamo di salvezza vuol dire arrivare anche al decimo posto. Quindi è facile per noi dire puntiamo a qualcosina di più perché dobbiamo essere più ambiziosi, dobbiamo avere quella voglia matta di fare molto meglio di questi ultimi due anni. Quindi al di là di una squadra anche modificata, cambiata, ma tanti di loro ormai sono pronti. e personalmente credo che i 98 e i 99 non siano più giovani ma siano validi e in grado di poter giocare. A 20 anni bisogna giocare perché se no è meglio fare categorie diverse. L'ultima ai tifosi che hanno sofferto in questi ultimi anni, che hanno avuto anche un po' pazienza, che hanno anche contestato, cosa ti senti di dire? Mi sento di dire che capisco la loro sofferenza, le grandi difficoltà avute negli ultimi due anni e stiamo facendo di tutto per riportare entusiasmo e dare credibilità attraverso le nostre idee a tutto l'ambiente. Abbiamo bisogno del loro sostegno, ma soprattutto della squadra con tanti ragazzi non giovanissimi, giovani, che con l'aiuto del proprio pubblico possono veramente dimostrare le proprie qualità. Andiamo in Serie D. Adesso il presidente dell'Aquila Calcio Gianluca Ius, dopo la bocciatura della domanda di iscrizione dalla Covisod, interviene con una nota e assicura che in una settimana sistemerà le cose. Vediamo. Dopo giorni turbolenti, il presidente dell'Aquila Calcio Gianluca Ius interviene con un comunicato stampa. L'avvocato Gulluni, il tramite tra la vecchia proprietà e Ius, mi ha comunicato, scrive l'imprenditore romano, che non esiste nessuna cordata locale interessata all'acquisizione dell'Aquila Calcio. Entro il 26 luglio, termine ultimo per far sì che l'Aquila sia iscritta, lo ricordiamo regolarmente, al prossimo campionato di Serie D, provvederò, continua Ius, a presentare tutta la documentazione relativa ai requisiti mancanti, cioè la prova del pagamento dei lodi, ricordiamo che vanno pagate le vertenze ai vecchi giocatori e all'allenatore Morgia, e al deposito dell'assegno circolare delle somme dovute per l'iscrizione. Questi adempimenti, chiarisce Ius, dopo le polemiche degli ultimi giorni e le prese di posizione dei tifosi russo-blu stanchi dopo anni di travaglio e che giustamente vorrebbero un po' di tranquillità, erano stati sospesi, chiarisce il manager romano, in attesa dell'esito delle trattative con la cordata aquilana. A proposito di cordata aquilana, è stato il solo Eliseo Iannini a palesarsi, ad uscire allo scoperto, dicendo comunque in un comunicato stampa di non essere assolutamente interessato all'Aquila Calcio. Intanto, vi è una squadra da costruire, gli aspetti organizzativi da definire. Può darsi pure che Ius stia facendo tutto questo sotto coperta. La domanda per come era stata inoltrata è stata respinta dalla Covisod, ma Ius chiarisce che in questa settimana competerà il tutto. Intanto, anche Alessandro Steri, ex capitano rosso-blu, che aveva atteso forza nella speranza di poter restare all'Aquila con una situazione più chiara, si è accasato al Castiadas, formazione di Serie D che ha appena vinto il campionato in Sardegna. Difficile, anzi appare impossibile, che qualche giocatore dello scorso anno possa restare. Gran parte dei ragazzi si sono accasati, alcuni anche con mister Battistini al Gavorrano. La sensazione è che sia una corsa contro il tempo, una settimana. Poi le cose saranno più chiare e si potranno tirare le somme. E' uno dei protagonisti invece della scorsa stagione dell'Avezzano. Federico Cerone è pronto a ripartire dopo la semifinale Amara, persa con il Pineto. Tanta qualità davanti per la formazione di Federico Giampaolo, ingrediente fondamentale anche secondo Cerone, per arrivare alla vittoria del campionato. Lo ascoltiamo. Federico Cerone, io non so se hai controllato se la traversa della porta sotto la curva dell'Avezzano sta ancora tremando dopo quel sinistro nella partita in semifinale contro il Pineto. No, 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 rimosso, rimosso. Quella giornata non la ricordo. Per me il campionato è finito con il Madelica, i play-off, non me li ricordo. Ci sono stati? No, 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 non li ricordo. È meglio mettere una pietra sopra perché in tanti anni di carriera una partita del genere veramente non l'ho mai giocata. Si riparte però adesso con un blocco confermato e con il solito Avezzano che soprattutto davanti ha tantissime alternative. Ma io sicuramente sono d'accordo con le parole del Presidente che bisogna migliorare quello fatto l'anno scorso. Sicuramente non sarà facile perché abbiamo fatto qualcosa di veramente importante. Partiamo sicuramente avvantaggiati con un gruppo che va a meraviglia, un allenatore bravo. Ci sarà da migliorare quello che abbiamo fatto l'altro anno. Però siamo abbastanza fiduciosi, non vediamo l'ora di iniziare a lavorare. E come dicevi te abbiamo molte soluzioni in avanti. Io sono dell'idea che i campionati si vincono con la qualità. Quindi se è arrivato un ragazzo forte, benvenga, lo accoglieremo a braccia aperte. Anche perché il vostro allenatore in carriera ha avuto il 10 sulle spalle, esattamente come spesso lo hai te. E immagino che a te dia parecchi consigli. Sì, non ti nascondo che c'è un rapporto importante con il mister. C'è anche una confidenza sana, la parola giusta. Qualche spunto cerco di rubarglielo. Come tutti sapete è stato un giocatore veramente forte che forse ha fatto al di sotto di quello che poteva fare. E ti ripeto, noi non vediamo l'ora di essere allenati e di partire per il ritiro del 26. Il presidente Pais ha detto se l'anno scorso è stato il campionato delle Marchigiane, qui si sono giocate la vittoria delle Marchigiane, il prossimo sarà il campionato delle Abruzzesi. Anche per Federico Cerone sarà così. Ma sicuramente si stanno muovendo bene tutte le altre squadre abruzzesi. Però è ancora abbastanza presto per delineare le rose effettive. Quindi credo che la parola esatta si potrà spendere dal mercato chiuso. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. Il TG6 torna questa sera con la seconda edizione alle ore 19. È tutto per il momento. Buona giornata.